Buongiorno, simply welcome to all the people coming here from the globe. Scusate, non è uno snobismo usare l'inglese in una manifestazione come questa, perché dice chiaramente quale sarà l'unico modello con cui noi non solo affronteremo la crisi, ma ne usciremo più forti. La sintesi di questa esibizione, di questa exhibition, questa fiera che noi abbiamo organizzato, di questo evento, è di fatto il giusto mix tra la nostra eccellenza locale e il fatto che questa eccellenza locale si deve continuamente confrontare però con il mondo, perché il mercato, i mercati che noi dobbiamo affrontare, sono quelli globali. E il motivo per cui abbiamo qui dei veri guru nel campo del design, nel campo dell'architettura, nel campo di tutto quello che riguarda il contract, sta proprio a significare quanto ormai questo nostro comparto di eccellenza sia capace di dialogare in sintonia e perfettamente posizionato in un modo complesso come questo. Sono questi tipi di conoscenze che ci renderanno, andando avanti e rafforzandole, imbattibili dal punto di vista della concorrenza, non facilmente copiabili e quindi di fatto dandoci delle posizioni di forza. Aggiungerei che la cosa che è già stata sottolineata, il fatto del superamento dei campanilismi che questo evento ha dimostrato in pratica, dà anche un segnale a livello regionale di come di fatto quando c'è una crisi come questa, se non ci si mette insieme non se ne viene fuori. Il fatto di mettersi insieme già ci dà la possibilità, e lo possiamo toccare con mano, di vedere il livello di eccellenza a cui facilmente possiamo arrivare. Quindi è un modello, è un segnale molto forte che dobbiamo avere la capacità, soprattutto noi come politici e come istituzioni, di rafforzare in simili eventi nel futuro. Concludo dicendo, non vi nascondo anche una curiosità, perché quello che è previsto dal punto di vista dei workshop, di presentazioni, so che ha attirato basta vedere un po' la tempesta nei social network intorno all'evento, dice chiaramente che questo non è stato un evento passato così sotto traccia, anzi è stato proprio qualificato dal mondo dei social network, quello più critico perché è quello più reattivo, come uno degli eventi da vedere. Quindi il segnale e termino è, se questa è la nostra capacità di reattività, perché di fatto questo è un segnale di reattività, siamo davvero sulla strada giusta. Vi ricordo che Darwin diceva che non sono gli animali più forti quelli che sopravvivono, ma quelli che sono più reattivi, perché hanno capacità di adattarsi ai cambiamenti più rapidamente. Quindi ancora, grazie per essere qui, grazie agli organizzatori per lo sforzo che è stato fatto, grazie per la qualità che ci avete portato, sono estremamente fiero come sindaco di questa città, di ospitare una manifestazione come questa.